Novità in casa Virtual DJ con aggiunte interessanti su tutti i fronti. Amici ma soprattutto amiche di SOS4DJ sono Claude e con l'ultimo aggiornamento di questi giorni alla V85B6878 Virtual DJ si allinea con alcuni hardware molto usati nel mondo dei DJs con una vera e propria sorpresa. Andiamo a vedere quali? Nuove e importanti aggiunte per Virtual DJ con l'ultimo aggiornamento che ovviamente è gratuito come sempre e senza distinzione di sistemi operativi quindi sia per Windows che per Apple. Vediamo nel dettaglio la pagina di aggiornamento che vi comparirà quando aprirete Virtual DJ se non lo avete già fatto ed ecco ciò che vi apparirà e cliccando su questa freccetta se ancora non lo sapete vi aprirà l'elenco di tutto ciò che è stato modificato in questa versione in modo e maniera da essere informati ed eventualmente se non siete convinti o volete mantenere alcune cose vecchie non cambiandole con quello che sta arrivando potete saltare l'aggiornamento e nessuno si farà male. Anyway, aggiunto supporto come vedete per la Pioneer DDJ Rev 7 e udite udite il supporto nativo per Tractor Control D2 questo controller molto sottovalutato in Italia ma che fa grandi cose così come l'F1 e con l'abbondanza delle uscite nel periodo è stato snobbato da molti DJs che non l'hanno capito e l'hanno anche un po' ignorato diciamo la verità ed invece c'è chi ce n'ha due con questo saluto il mio amico Cree che sarà contento come una Pasqua che così c'è anche Virtual da spataccare oltre a Tractor. 3, 2, 1, prrr, ora mi chiamo, eh? Anyway, aggiunti anche i Merge Facts per la Pioneer DDJ FLX6 che abbiamo visto su un tutorial come sempre su SOS4DJ risolto inoltre il problema per quel che riguarda l'utilizzo dei multipli Rain12 su Mac e migliorata la velocità del browsing sempre su Mac. Virtual DJ ci dà sempre buone notizie. e controllando sulla pagina ufficiale di Instagram di Virtual DJ oltre a ciò che vi ho fatto vedere cioè la DDJ Revset l'aggiornamento del Control D2 andando un po' a ritroso controlliamo che è stato aggiunto qualcos'altro di molto importante così come vediamo in questo video di Virtual DJ sul famigerato X1K2 e qui saluto un altro amico di SOS4DJ ciao Max fanatico di X1K2 anche lui ne ha due oggi è il giorno dei saluti e come potete leggere il controllo con X1K2 e Virtual DJ funzionalità automatica per Virtual DJ software in modalità 2DEC e 4DEC che ti offre il controllo di cui hai bisogno per i tuoi mix combinano con un X1 23C o 43C per una potente configurazione digitale e qui potete ottenere il vostro ufficiale overlay sul sito su X1 cioè sulla pagina Instagram di X1 tornando un passo indietro anche il supporto per un'altra macchina native instrument bomba anche quella troppo sottovalutata che in Italia non ha avuto successo anche se a mio parere validissima e cioè il Control S8 di Native Instruments come vedete fully supported in Virtual DJ Pro inoltre anche l'aggiunta per Hercules DJ Control Mix e il supporto per la Pioneer XDJ-RX3 inoltre supporto anche per Rain One eccolo qua lo vedete in questo post così come per il Denon DJ LC6000 ed anche per il Sound Switch Control One tutte macchine che avrete visto qua sul canale in caso andate nel tasto ricerca nel canale di SOS4D e troverete le recensioni specifiche ed inoltre qualcosa riguardante i cataloghi di streaming accesso istantaneo a milioni di brani Virtual DJ ti offre le più ampie opzioni di catalogo l'ultimo aggiornamento include i grafici dei cataloghi audio e video predefiniti con VDJ Pro e i DJ Pool oppure altri servizi popolari come Deezer, Tidal o Tidal SoundCloud, Bitport e BitSource tutti i cataloghi disponibili direttamente all'interno del software aggiungi brani alle tuoi playlist cerca nei cataloghi i tuoi brani preferiti scopri nuovi contenuti da classifiche playlist curate prova i cataloghi online sul sito Virtual DJ e qui c'è il link che magari vi metto tutto in descrizione bene, fa piacere notare il metodo di lavoro di Virtual DJ così aperto e lungimirante rispetto ad altri software che a mio avviso se la menano un po' troppo come dico spesso ed è forse per questo che è il software più amato e diffuso poi il programma può piacere o meno ovviamente anche per funzioni lavorative ma è fuori il dubbio che come apertura e tecnologia adesso credo sia una spanna avanti a tutti forza Tractor, forza Recordbox è serato, diamoci una sveglia perché qui il giocattolino come lo chiamano ancora alcuni DJ sta facendo passi da gigante anzi li ha già fatti e continua a farne bene, fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti se siete contenti di questi aggiornamenti e se la vostra macchina rientra nelle aggiunte ultime di Virtual DJ corsi per DJ e corsi di produzione musicale potete fare tutto online con il sottoscritto contattandomi nella sezione Contact compilando il form oppure tramite Facebook per chi sono indicati i corsi, le lezioni per chi inizia da zero per chi è già bravo ma vuole migliorarsi e non riesce a farlo da solo perché ha incontrato un tetto e oltre lì non va per chi vuole fare il salto definitivo verso il professionismo le consulenze, consulenze private anzi per i corsi e le consulenze contattatemi in privato solo per quello per tutto il resto mi raccomando lasciate nei commenti del canale consulenze su tutto l'hardware, software e anche su tutte le problematiche legate al mondo burocratico del DJ ma anche al marketing del DJ abbiamo fatto un video poco tempo fa oltre alla pagina Facebook troverete Instagram dove potete seguirci e la nostra community Telegram gratuita notifiche silenziose, chat interna scleri di Claude e fuori onda il canale YouTube dove puoi iscriverti abbonarti se vuoi vatti a vedere il video per la corsia preferenziale che possiamo darti a fronte di un piccolissimo impegno con contenuti extra e tante tante offerte per te puoi attivare la campanella se vuoi essere informato tempestivamente sui video in anteprima di tutto ciò che pubblichiamo su SOS4DJ e puoi mettere un mi piace o se vuoi condividere con i tuoi amici ma ci puoi anche aiutare se vuoi tramite sostieni SOS4DJ clicca duramente qua su sostieni SOS4DJ e ci potrai offrire un caffè, una birra, una pizza tutto ciò che ti fa piacere bene, gli ultimi aggiornamenti di Virtual fa vedere che il software è molto molto vivo si continua ad allineare con tutte le macchine possibili e fa felici sicuramente tutti gli utenti del software perché come diciamo da sempre veramente è attento a molte esigenze di tutti i DJ non solo quelli dei grossi marchi e delle grosse macchine per tutti ecco, Virtual DJ direi che è un software per tutti da parte di SOS4DJ e Claude vi ringrazio per l'ascolto vi auguro una meravigliosa giornata mi raccomando fatemela sapere qua sotto nei commenti la vostra opinione vi ricordo l'iscrizione al canale per noi importantissima e ricordandovi anche che la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio piripiri piripiri